Salve a tutti ragazzi, oggi vi ho portato qui un piccolo unboxing del secondo carico di Capodanno andiamo subito a vedere che cosa ho preso e allora, iniziamo con degli Space Travel pagati poco, circa 7 euro molto carini sono degli razzetti categoria F2 e hanno praticamente NEC 13,2 grammi poi abbiamo dei semplicissimi Super Minion passatempo prima della mezzanotte della Borgo Novo 12 pezzi, anche questi pagati pochissimo non ricordo di preciso quanto 93 grammi per ogni pezzo 0,93 grammi per ogni pezzo sono 12 pezzi abbiamo due pacchetti poi abbiamo un pacco di Pubisher della Vulcan molto belli in totale sono 33 grammi quindi siamo sui 5 grammi a pezzo qualcosa del genere poi abbiamo i New FP3 molto carini questi questi siamo sui quasi 2 grammi l'uno sono 20 pezzi in confezione come potete vedere molto belli fanno un leggero flashberg lanterna come si vuol chiamare verde prima dello scoppio poi abbiamo dei Mega Trask NEC molto belli anche questi NEC 3 grammi 10 pezzi ora ci vediamo all'interno fatti molto bene cartoncino molto duro poi abbiamo preso una mitra da 500 colpi della Klasek 500 colpi chiamata Kalashnikov e poi per concludere qualcosa di molto carino abbiamo preso il Boom Boom 2G della Klasek appunto 2 grammi l'uno e 3 bellissime parti di un Boom 5G anch'essi della Klasek molto 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 belli consiglio e niente questo è il secondo carichetto e spero vi sia piaciuto sostenetemi e porterò altri contenuti come petardoni e cose varie che mi dovrebbero arrivare a breve grazie mille e ciao a tutti grazie grazie grazie